Era il 15 marzo del 1983 quando durante la missione Italcon Libano 2 un marò di leva del battaglione San Marco fu ferito gravemente in un vilettacco dopo che il suo convoglio durante un pattugliamento notturno cadde in un'imboscata sulla via dell'aeroporto nei pressi di un campo profughi palestinese a Beirut. Morì poi il 22 marzo sempre del 1983 in seguito alle gravi ferite riportate. Il marò era il fanese Filippo Montesi del quartiere di Sant'Orso che fu colpito alla schiena. Montesi fu l'unico militare italiano a cadere durante la missione nella quale rimasero feriti anche 75 italiani. A Montesi fu conferita la croce di guerra alla memoria ma ora la sua città vuole dargli un altro contributo di orgoglio e stima per il suo estremo sacrificio durante una missione di pace. La città di Fano ha già dedicato a Filippo Montesi un certo numero di luoghi come la scuola ma noi abbiamo pensato che fosse necessario dare un diverso valore alla sua figura ponendo un cippo che ricordi proprio il suo sacrificio. Durante la cerimonia avremo l'occasione e anche il piacere di avere con noi molti ex militari del battaglione San Marco che sono stati con lui nel Libano. Alcuni di loro vivono in Germania e si trasferiscono proprio per questa cerimonia. Il monumento vedrà l'inaugurazione venerdì prossimo 22 marzo alle 11.45 e sarà posizionato di fronte alle grandi ancore del monumento ai caduti del mare al porto di Fano. È assolutamente doveroso che la città di Fano ricordi la sua figura e in qualche modo rinnovi anche l'esempio di un militare che è caduto in una missione di pace. Io ringrazio Anmi a nome dell'amministrazione comunale perché l'iniziativa è un'iniziativa veramente lodevole che ci permette di riscoprire anche una pagina di storia fanese, di storia cittadina che è bene trasmettere ai più giovani. E ricordare la figura di Filippo Montesi è rendere onore non solo a un nostro concittadino ma anche a un italiano che è caduto per la pace. L'opera è stata realizzata da un ex studente dell'Istituto d'Arte a Polloni di Fano che ora frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Brera. Sarà alto oltre due metri ed oltre ad una parte figurativa che vedrà il volto di Filippo Montesi intrecciarsi con il crest del suo battaglione, da una parte espressiva con cui l'artista ha manifestato la sua interpretazione del tema. È stato un percorso molto bello e mi sono dovuto impegnare il doppio perché appunto c'era da definire tanti dettagli, c'era da risistemare certe cose come la sicurezza. Non mi era mai successo di dover realizzare un'opera nel concreto diciamo di una tale rilevanza. Che emozione si prova a vedere una propria opera insomma posizionata nella propria città. Sapere soprattutto che non è un'opera temporanea che rimarrà qui per un certo periodo di tempo ma rimarrà proprio stabilmente è sempre un'emozione grandissima.